Su Kimpel, l'idiota, il racconto che ho appena postato, Roberto Saviano scrive qualcosa in un suo saggio intitolato Il demone e la vita, un saggio che ha pubblicato in un libro La bellezza e l'inferno, editato da Mondadori, mi pare, e questo capitolo si intitola Il demone e la vita. Come scrive Singer nel libro Ombre su Lundson, riporta Saviano, Dio ha bisogno che l'essere umano lo aiuti a portare il dramma cosmico a un beneficio finale. La letteratura così divenne una strumentazione divina, capace di almanaccare mondi, di fantasticarli, all'interno dell'unico mondo possibile come quello che siamo costretti a vivere. Gimpel, leggendario personaggio di Gimpel, l'idiota, riconosce che questo mondo è del tutto immaginario, d'accordo, ma è parente stretto di quello vero. E proprio per questa parentela non rimane da fare altro che considerare la forza della fantasia come un elemento fondante del reale. In letteratura, reale non è soltanto quello che è vero, tangibile, ma anche quello che si può costruire attraverso il fantastico, attraverso tutto quello che siamo capaci di pensare diventa reale per la letteratura. Quindi si riassume la vicenda di Gimpel, no? La vicenda di Gimpel è assai semplice. Fin da bambino viene ingannato da tutti, compagni di scuola, compaesani, grandi e piccoli, per la sua credulità. E per questo ti resta attaccato tra i vari soprannomi quello di idiota. Gimpel si fa infinocchiare non perché sia stupido, ma perché è convinto che tutto è possibile, come scritto nelle massime dei padri. L'inganno cui io ho sottoposto continua anche nella sua vita adulta. Viene convinto a sposare la donna più disonesta del paese, la quale gli farà credere di amarlo, poi gli si rifiuterà e nel frattempo metterà al mondo ben sei figli da altri uomini. Ma Gimpel non cova nel suo cuore la vendetta. Ama la moglie, i figli non suoi, i vicini. Aiuta persino chi lo tradisce. Il rabbino, infatti, una volta, gli aveva dato un consiglio. E' scritto, meglio essere sciocchi tutta la vita che malvagi per un'ora. La tentazione però si insinua anche nel suo cuore buono. Gimpel, che faceva il panettiere, avrebbe potuto ingannare tutti, rifacendosi delle beffe che aveva subito per tutta la vita, impastando la farina anzi che con l'acqua con il suo piscio raccolto in un secchio durante il giorno. Si lascia convincere dallo spirito del male che lo inganna, assicurandogli che nel mondo di là non c'è Dio, c'è solo un profondo pantano. Ha un momento solo di debolezza, ma subito dopo Gimpel si ripensa, sotterra il pane già cotto, lascia tutto e volendo riparare a quel cedimento, diventa mendicante e gira per i paesi raccontando storie. Si prepara così alla morte. Senza dubbio il mondo è completamente immaginario, ma una sola volta viene rimosso dal mondo reale. Quando è il momento verrà, me ne andrò con gioia. Gimpel dice di sì alla vita. Attraverso Gimpel, l'idiota, Singer sembra rispondere al Bartleby di Melville o al Michael K di Ketze. I signori del no vengono affrontati e sconfitti dall'idiota signore del sì. Lo Schlemil, ciocco e Gnidic, è colui che rigetta l'astuzia del vivere, il mercanteggiante del pensiero, e vive essendo soltanto ciò che è. E di questa pace, pagata con il prezzo dell'insulto, Gimpel diviene il paladino. Il no, invece, sembra essere, nella somma delle riflessioni singeriane, come un legame troppo silenzioso con il mondo reale. E il silenzio è il peggior modo per essere uomo. Una prigione incapace di cogliere le versatilità sublimi e immonde dell'essere al mondo. Singer non segue la massima di Adorno, secondo cui, dopo Auschwitz, non c'è più posto per la poesia, né il tuffo suicida di Paul Celan, nella Senna, e neanche crede come primo Levi che se c'è Auschwitz non può esserci Dio. Pur avendo perso il fratello più piccolo e la madre, inghiottiti nella deportazione, Singer coltiva ancora la voce come una resistenza contro l'odio, che spinozianamente crede non possa generare nulla di buono, anche se nasce da motivazioni giuste. Questo per Gimpel l'idiota. In questo testo Saviano cita Melville, Bartleby lo scrivano. Questo preferirei di no, che caratterizza Bartleby lo scrivano, il racconto di Melville. Questa resistenza dello scrivano poi si presta a sua volta a un'interpretazione critica, soprattutto da parte di un filosofo italiano, Giorgio Agamben, e di un filosofo francese, Deleuze. Cosa dice Agamben? Dice che Bartleby è la figura suprema del nulla da cui procede la creazione, e insieme la più implacabile rivendicazione di questo nulla come pura, assoluta potenza. Lo scrivano è diventato tavoletta per scrivere. Non è ormai nient'altro che il suo foglio bianco. Non stupisce quindi che egli dimori così ostinatamente nell'abisso della possibilità, e non sembri avere la più piccola intenzione di uscirne. Potenza di essere e nello stesso tempo potenza di non essere. Bartleby non è che non voglia copiare o che voglia non lasciare l'ufficio. Soltanto preferirebbe non farlo. La formula, tanto puntigliosamente ripetuta, distrugge ogni possibilità di costruire un rapporto fra potere e volere, fra potenza assoluta e potenza ordinata. Bartleby oppone una resistenza alla narrazione. Rifiuta sia il poter essere che il poter non essere. Il suo rifiuto di scrivere è intrinseco a un suo essere così, che divenne inesplicabile. L'avvocato, se lo scrivano non si fosse rifiutato in un certo modo, l'avrebbe cacciato, perché la possibilità del rifiuto è già contemplata dall'ordine che sa già come intervenire. Ciò che si sa di Bartleby è che egli non è ciò che si crede di sapere. L'avvocato, possiamo dirlo con certezza, fa un vero e proprio incontro. Lo scrivano, infatti, è il rifiuto della rappresentazione di un ruolo. Afferma un modo di essere singolare e irriducibile, ma nello stesso tempo perturbante. Bartleby è l'intruso, qualcosa che non ci si aspetta di trovare già dentro dove ci si credeva al sicuro, qualcosa che all'inizio si lascia passare. Bartleby è un uomo di poche parole, quasi che le parole potessero tradirlo, elementi di una comprensione della sua interiorità, della sua alterità. Bartleby è un perfetto meccanismo creativo di rifiuto assoluto. Melville porta così nella letteratura una figura dell'indigeribile, una figura non letteraria, perché il processo della lettura evoca sempre una certa assimilazione. Bartleby rifiuta non opponendosi, ma con l'indifferenza e la leggerezza di chi declina un invito. Bartleby ha la potenza di declinare un ordine in un invito, ossia di declinare un ordine in qualcosa che può essere sempre rifiutabile. Bartleby trasforma il potere in un invito, oppone alla finta dolcezza del potere, ormai non più esclusivamente disciplinare, la finta dolcezza del manierismo. Ed è sul manierismo della sua formula che insiste invece Deleuze, con l'intento di sottrarre la figura di Bartleby a qualsiasi simbolismo. Si osserva all'inizio infatti una certa solennità. Prefer è usato raramente in questo senso. E nel principale di Bartleby, l'avvocato, negli impiegati dello studio se ne servono abitualmente. Una strana parola, la stravaganza della formula va al di là della parola stessa. Bartleby, più che un simbolo, produce con la sua formula un particolare meccanismo, cioè la formula si caratterizza per il suo iper-rifiuto. La formula è devastante, perché elimina altrettanto impietosamente il preferibile e qualsiasi non preferito. Ma l'iper-rifiuto non è ancora il rifiuto assoluto. Il rifiuto assoluto è la cifra di un'intrusione. Se Bartleby avesse rifiutato ogni cosa, non sarebbe entrato affatto nel guscio studio dell'avvocato. Questo entrare di Bartleby non viene per nulla sottolineato dai due interpreti, esclusivamente concentrati sulla formula. Perché lo scrivano, prima di far uso della sua formula, deve divenire scrivano. Deve rifiutare di formulare. Deve rifiutare e nello stesso tempo non rifiutare. Il suo prefer è la cifra della sua economia anti-utilitaristica. Se scrive è perché implicitamente preferisce rifarlo. Perciò che non preferisce, egli innalza la sua legge, con la sua formula. Preferisco di no. È curioso come il preferire sia la cifra di un rifiuto assoluto, non iperbolico. E assoluto vuol dire slegato, sciolto, non relativo ad un sì o ad un no. Non binario. Cifra di un volere sottile e inesplicabile, di un desiderio evasivo. Il rifiuto assoluto è il rifiuto ambiguo, che è più forte di un rifiuto opposizionale. Bartleby non rifiuta di parlare, ma di parlare come si parla. Non rifiuta di fare, ma di fare come si fa. Rifiuta pertanto sia il fare, come si fa, che il non fare, preferendo. Rifiuta il rifiuto. Ed è questo il gesto della sua assolutezza. La potenza del suo rifiuto non si concentra su un piano linguistico pragmatico o ontologico politico, quanto nel suo rifiuto obliquo, o meglio ubiquo, del suo essere dentro fuori, nel trasformare ogni ordine in un rifiutabile e nel disorientare ogni attribuzione di senso. Ma nel suo rifiuto assoluto, Bartleby non diventa che un attrattore, come un amo. Entra ed esce. Tutto il racconto è un dispositivo di attrazione, untraining. Il lettore ha l'impressione di cadere in un tranello continuo, complice alla figura dell'avvocato che abbocca e tenta ogni volta una spiegazione che possa includere Bartleby nella sua solida ed efficiente visione del mondo. Bartleby quindi viene non per salvare, ma per redimerci dalla salvezza che può dare il sapere. Secondo Deleuze, quindi, la lingua di Bartleby sarebbe la cifra di un popolo di fratelli senza padre, di una comunità di originali senza origine, di un'America diversa dall'America fatta di uomini d'affari o di successo, forse ancora troppo inglesi. Ma Bartleby non è una tale forma di Messia. Egli non salva, non vuole salvare. Come Cristo egli non salva se stesso, ma non per salvare con il suo sacrificio il mondo. Bartleby viene non per salvare, per redimere dalla salvezza che può dare il sapere. Sapere non salva, non redimere, può solo costringere. Bartleby è quel Messia che salva dalla volontà di sapere. È l'inesplicabile che non si viene a sapere, che il sapere non può costringere e che non può annullare. L'unica cosa che si saprà di Bartleby è che egli nient'altro è che il Messia, guardiano dell'irreparabile. Bartleby sarebbe stato un impiegato subalterno in un ufficio di lettere smarrite a Washington, la quale sarebbe stato ad un tratto dismesso a motivo di un cambiamento nell'amministrazione. Lettere smarrite, lettere morte. Non si direbbe che tutto ciò parli di uomini morti. Pensate ad un uomo che per natura, per sventura, si è propenso al pallido pensiero dell'irreparabile. Potrebbe un'altra occupazione essere più adatta ad acuire quel pensiero, più del maneggiare queste lettere smarrite e a catastarle per darli alle fiamme. Da che ogni anno cataste se ne bruciano di simili lettere. Dalle pieghe di un foglio a volte il pallido estrae un anello e il dito cui era destinato forse già imputridisce nella tomba, estrae una banconota inviata con la più sollecita carità e che avrebbe dovuto soccorrere più non mangia né soffre. Un perdono per chi morì disperando, una speranza per chi morì senza spene. Buone nuove per chi fu annientato da perpetue sventure. Inviate per occorrenze della vita, queste lettere urgono alla morte. Ah, Bartoli, ah, umanità!